Tutto importante, 20 miglia, la zona franca, il nuovo porto e guardare all'Europa, un tutt'uno. Sì, noi vogliamo riconoscere e ribadire quello che è un dato di fatto, ossia che stiamo parlando in realtà di una delle più dinamiche in assoluto della provincia e della Liguria, parlare delle positività. Porta d'Europa perché non è solo il confine della Francia che contraddistingue 20 miglia, ma una sua internazionalità per le visite, per la sua storia, per il futuro che ci aspetta. Quindi, insomma, abbiamo trovato un grande sostegno, un grande appoggio da parte della Confcommercia e della Confesercenti. Vogliamo portare avanti dei tavoli di discussione basati sui focus che quest'oggi affronteremo tutti assieme con relatore di spessore nazionale. C'è supporto anche della stampa, quindi una grande attenzione per 20 miglia che merita in tutto e per tutto. Sostanzialmente parleremo in particolar modo di zona franco-urbana, parleremo della nuova portualità, parleremo del parco Roie e parleremo della sinergia che tutti questi temi messi assieme, insieme a una mobilità rivista, rinnovata, possono creare, possono creare economia, possono creare futuro e sviluppo. Vedremo anche quella che è la percezione oggi dei cittadini, del loro futuro sulla base di questi nuovi asset.